Controlliamo, bravo! Nemico vicino alla rimetta! Intervieni, subì! Controlliamo la battaglia! UAV nemico in volo! Abbiamo due obiettivi! Difendiamoli! Serve supporto a Bravo! Abbiamo perso Bravo! Fila eliminata! Nemico vicino alla rimetta! Fila eliminata! Controllano due obiettivi! Riprendiamoceli! Approvvigionamento alleato in arrivo! UAV in zona! Serve un altro volo! Sotto cazzo! Qui Jaguar 3-0 confermato! Fasigliamento! Bombardamento di precisione pronto! Va tutto bene! Area contrassegnata! Procedete! Qui Stryker 3 ricevuto! Attacco in corso! Impatto! 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 Effetto nullo! Il rodipo controlla tutti i bui! Nemico di più alla rimetta! Attenzione UAV in rientro forzato per fare rifornimento! Edificio distrutto Abbiamo preso Charlie Siamo su Alfa, attendere Radar personale nemico in volo Appuntato qualcuno Abbiamo preso Alfa I nemici prendono Charlie Abbiamo preso Charlie Prendiamo Bravo Siamo su Charlie, attendere Risaglio è contrassegnato, richiedo Abbiamo tutti gli obiettivi Abbiamo perso A Prendiamo A Mi stanno sparando Abbiamo tutte le posizioni Difendetele Aiuta la squadra presso B Abbiamo perso, bravo Prendiamo Bravo UAV in zona Rombardo a fuoco Qui Jaguar 3-0 Confermato Battugliamento UAV iniziato Temico Inizio distrutto Bombardamento di precisione pronto Qui Stranger 3 ricevuto Attacco in cura Mi stanno spar gare Abbiamo perso Ok Iniziamo noi Avanti Così Mira meglio per favore Ne controlliamo due Siamo in vantaggio approvvigionamento alleato in arrivo nemici presso bravo corretta scudo alleata schierata unione computer extraordinario